Al 2015, i dati sono dell'Istat, in Emilia Romagna risultavano occupate 248.000 persone di cittadinanza non italiana, il 12,9% dell'occupazione complessiva. Guardando nel dettaglio, quella maschile la fa da padrone e incide per il 54,5%. In genere si tratta di persone molto giovani, considerando che oltre i due terzi ha meno di 45 anni. Di questi, un quarto lavora nel settore dell'industria e oltre la metà nei servizi. È in quest'ultimo comparto che la presenza femminile si fa sentire maggiormente. Infine, tra il personale domestico, l'85,2% dei lavoratori è straniero, percentuale sostanzialmente identica per maschi e femmine. Le cifre sono state fornite dalla CISL, Emilia Romagna, all'interno di un convegno dedicato al fenomeno migratorio. Si tratta di una risorsa e un'opportunità, scandisce il sindacato. Nella nostra regione i residenti stranieri sono il 12% della popolazione. Per lo più si tratta di persone che hanno un permesso di lungo periodo. Il processo di stabilizzazione è provato anche da un numero ingente di acquisizioni di cittadinanza, circa 100.000 negli ultimi dieci anni, e da un'alta percentuale di bambini stranieri, oltre 15% degli alunni, infatti, che frequentano le scuole, in netta maggioranza quelli nati in Italia. A livello nazionale si calcola inoltre che i 5 milioni di straniere regolari presenti sul suolo italiano offrano un contributo dell'8,8% del PIL.